Benvenuti all'ascolto di Cittadinamica, il programma di Radio Dolce Vita a cura degli stagisti dell'Università di Ferrara. Sono Giulio Cecere e in questa nuova puntata dedicata ai film realizzati a Ferrara parleremo di Cronaca di un amore del 1950, primo lungometraggio in assoluto ad essere diretto dal grande regista ferrarese Michelangelo Antonioni. Prima di parlare del film, mi sembra doveroso aprire una breve parentesi su questo regista. Considerato uno dei più grandi cineasti della storia del cinema, Antonioni nacque il 29 settembre 1912 a Ferrara, dove visse gli anni della sua formazione e giovinezza, per poi trasferirsi negli anni 40 a Roma, in cui si avviò alla carriera cinematografica. Pluripremiato regista borghese e autore della crisi sociale divenne celebre grazie alla trilogia dell'Incomunicabilità tra il 1960 e il 1962, composta dai film L'Avventura, La Notte e L'Eclisse, con protagonista la giovane Monica Vitti, al tempo compagna di Antonioni anche nella vita. Considerate le prime opere cinematografiche che affrontano i moderni temi dell'incomunicabilità, dell'alienazione e del disagio esistenziale. Si consacra poi definitivamente all'attenzione internazionale, prima con Deserto Rosso nel 1964, che vince Leone d'Oro al miglior film alla mostra di Venezia, poi con Blow Up nel 1966, vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes. Negli anni 70 prosegue la ricerca sulla crisi della modernità in Zabrisky Point del 1970, da cui emerge una forte critica al consumismo, e Professione Reporter del 1975. Da sempre ispirato ai paesaggi del territorio ferrarese, Antonioni vigirò il suo primo film, Cronaca di un amore, e, in seguito all'Oscar per la carriera nel 1995, la prima storia di Al di là delle nuvole, diretto in collaborazione con Wyn Wenders. Morì a 94 anni a Roma il 30 luglio 2007. Per sua espressa volontà, il funerale venne celebrato nella sua città natale, presso la Basilica di San Giorgio, a poche centinaia di metri dal luogo dove era nato. La sua tomba oggi si trova nel cimitero monumentale della Certosa di Ferrara. Nel marzo 2011, la nipote Elisabetta Antonioni ha fondato l'associazione Michelangelo Antonioni, che ha lo scopo di favorire lo studio dell'attività artistica e culturale del grande maestro del cinema italiano e internazionale. Ma, ritornando al film, Cronaca di un amore, esorde alla regia di Michelangelo Antonioni, è uno dei primi segnali di svolta dopo l'esaurirsi del neurarismo del cinema italiano, che qui prende la strada a metà tra un noir e un dramma sentimentale, ma subito di forte originalità e precursore dell'intera visione poetica di Antonioni. Pieno di novità stilistiche, tra cui l'uso, allora poco frequente, del piano sequenza e l'isolamento e la mancata comunicazione dei personaggi, resi attraverso una scelta compositiva maggiormente orientata ai fatti e agli ambienti. Ma di cosa parla Cronaca di un amore? Il ricco ingegner milanese Enrico Fontana incarica Carloni, un investigatore privato, di indagare sul misterioso passato di sua moglie Paola Molon, originaria di Ferrara. Il detective si reca proprio qui, e grazie a delle testimonianze ottenute furbescamente da amici e conoscenti di Paola, scopre che la donna, ancora Ferrara, qualche mese prima di sposare Fontana, aveva avuto una relazione segreta con un certo Guido Garroni, allora ufficialmente fidanzato con Giovanna Carlini, un'amica di Paola. Quel rapporto si era bruscamente interrotto quando la fidanzata di Guido era morta disgraziatamente precipitando nella tromba dell'ascensore, uno strano incidente ancora irrisolto. Dopodiché Paola, per non destare spiacevoli sospetti, lasciò Guido e andò a Milano per sposare l'ingegner Fontana. A distanza di diversi anni, Paola e Guido si incontrano nuovamente a Milano, di nascosto da Enrico. Entrambi sono ancora spaventati e provati per l'inchiesta sulla tragica morte di Giovanna, consapevoli del fatto che, dal punto di vista legale, sono totalmente innocenti, non avendo commesso alcun delitto, ma allo stesso tempo non hanno fatto nulla per impedire l'incidente, in quanto entrambi, sotto sotto, desideravano la morte della ragazza. La passione tra Paola e Guido, soppita per molto tempo, riesplode all'improvviso tanto che i due addirittura progettano un possibile futuro insieme. Ma Guido è povero e non ha denaro, e Paola è ormai abituata a vivere nel lusso che Enrico le ha assicurato per anni. Perciò i due amanti preparano un piano per uccidere il marito e impossessarsi delle sue ricchezze. Guido sparerà l'uomo nei pressi di un ponte, quando l'auto sarà costretta a diminuire la velocità, così, finalmente, potrà vivere felice con Paola. Ma anche questa seconda morte si concretizzerà in maniera accidentale. L'ingegnere, venuta a conoscenza del passato della moglie e dal rapporto del detective, sbanda in auto per la forte velocità e finisce nel naviglio. Ancora una volta, Paola e Guido saranno costretti ad abbandonare il loro sogno d'amore e intraprendere strade diverse. Il film uscì nelle sale cinematografiche italiane il 3 novembre 1950, mentre in Francia persino un po' prima, il 18 settembre dello stesso anno. La pellicola fu rifiutata dalla mostra di Venezia, ma nel 1951 vinse due nastri d'argento, un nastro speciale a Michelangelo Antonioni e uno a Giovanni Fusco, per la miglior colonna sonora. Il film è stato poi restaurato nel 2004 dall'associazione Philip Morris Progetto Cinema, assieme agli studi di Cinecittà, poiché il negativo originale del film era andato perso in un violento incendio del 1989. In Cronaca di un amore compaiono figure di spicco del cinema italiano e con le quali Antonioni nel corso della sua carriera si ritroverà a lavorare. Tra questi troviamo il curatore del montaggio, Eraldo da Roma, e il compositore Giovanni Fusco. Ad eccezione del protagonista Massimo Girotti, il cast è composto da attori pressoché sconosciuti. Il regista, per il ruolo di Paola, avrebbe voluto Gentierni, ma era a chiedere troppo. Scelse perciò una recente Miss Italia, l'allora 19enne Lucia Bosè. Nonostante l'inesperienza e la poca convinzione iniziale, poiché avrebbe dovuto interpretare una sofisticata trentenne milanese, la giovane seppe seguire al meglio le indicazioni del regista. Per il personaggio della ricca e cinica Paola era necessaria una drastica trasformazione della sua immagine. Tra le prime operazioni ci fu una nuova pettinatura. I capelli vennero mantenuti naturalmente lisci, ma accorciati fino alle orecchie per valorizzare il collo. Letizia Balboni, moglie del regista, fece in modo che per il guardaroba partecipasse al film un uomo raffinatissimo, un conte di Trieste di sua conoscenza che faceva lo stilista, Ferdinando Sarmi. Sarà lui ad occuparsi degli abiti della Bosè e della sua trasformazione in donna elegante e sofisticata. In cambio, Antonioni gli affiderà il ruolo di Enrico, marito di Paola, l'industriale sospettoso che la coppia diabolica vuole eliminare. Lucia Bosè così affiora nel film proprio come una diva degli anni venti e ritroverà nuovamente il regista ferrarese sul set della Signora delle Camerie, il suo film successivo. Il ruolo del protagonista maschile è affidato a Massimo Girotti, che abbiamo già imparato a conoscere nel primo episodio di questa rubrica dedicata ad ossessione. E anche in questo caso, come nel film di Visconti, interpreta un uomo affascinante e passionale che si lascia travolgere dagli eventi ed è causa del tradimento della moglie. Le riprese sono state effettuate tra Ferrara e Milano. L'episodio ferrarese si compone di tre brevi sequenze, dalla durata complessiva di circa sette minuti, che costituiscono una sorta di prologo rispetto al resto della narrazione che si svolge a Milano e presentano un certo interesse sia ai fini della lettura del film sia per un'indagine del rapporto ambivalente tra il regista e la sua città natale. La prima sequenza si svolge nella vecchia sede del liceo classico Ludovico Ariosto, in via Borgo dei Leoni. La scuola appartiene in parte anche al vissuto di Antonioni, che l'abbandonò dopo il bienio del ginnasio per trasferirsi all'istituto tecnico Vincenzo Monti. La seconda nel tennis club Marfisa. Sappiamo che l'impianto sportivo, inaugurato nel 1930, era frequentato assiduamente dal regista, come attesto a un foglio con la classifica di un torneo da lui vinto, contenente anche tra l'altro il nome di Giorgio Bassani. E la terza nel cosiddetto quadrivio degli angeli, ovvero l'incrocio fra Corso Ercole I d'Este, Corso Portamare e Corso Biagio Rossetti, fulcro dell'addizione Erculea, su cui fanno angolo il Palazzo di Diamanti, il Palazzo Turchi di Bagno e il Palazzo Prosperi Sacrati, in cui è ambientata la scena del colloquio fra l'investigatore Carloni e alcuni amici di Paola. Dai pochi scorci di Ferrara tratteggiati all'inizio di Cronaca di un Amore, non emerge certo un'immagine idealizzata o nostalgica della città emiliana. Infatti, per i lungometraggi successivi, il regista sceglierà location quasi sempre distanti dalla sua città d'origine, Che fossero Milano, Roma, Londra, Shanghai, la California o il deserto del Sahara, Antonioni si afferma come l'autore della vocazione più internazionale del cinema italiano del secondo dopoguerra. D'altra parte, però, sarebbe difficile negare che tutte le città di Antonioni siano sempre, per certi aspetti, Ferrara e che risultino sempre dei luoghi altri, deserti e straniati. Forte di un'esperienza maturata attraverso i documentari, Antonioni debutta sul grande schermo con un film curiosamente simile nell'intreccio all'esordio di Disconti, Ossessione, del 1943, ma prendendo le distanze dal neorealismo, inaugurando il cinema del disagio esistenziale a colpi di lunghi e lenti pieni sequenza, in contrasto con la sintassi spezzata degli anni 40. Più della storia, che si sviluppa secondo il modello dell'inchiesta, conta l'inedito discorso di classe che mostra una borghesia vuota, ipocrita ed egoista. Al pari del capolavoro viscontiniano, anche il film di Antonioni segue le traverse di una disgraziata coppia di amanti decisa a sbarazzarsi del marito di lei. Ma mentre in Ossessione, l'episodio adulterino è ambientato nella miserie della bassa padana, cronaca di un amore trasferisce la vicenda nel gelido contesto della borghesia milanese. Lo stesso termine cronaca non allude l'attenzione neorealista per gli eventi e i loro risvolti sociali. Ad Antonioni preme semmai scoprire quanto sta dietro i fatti e ciò che questi lasciano nella coscienza. In questo senso si comprende perché l'amore tra Paolo e Guido appaia segnato da due violenti decessi, di cui sono colpevoli soltanto moralmente. Avvenuta ai tempi della loro gioventù ferrarese, la prima morte è quella di Giovanna, prossima al matrimonio con Guido, e amica di Paola. Già segretamente legati, i due protagonisti hanno lasciato che la ragazza precipitasse nella tromba di un ascensore. La relazione, subito interrotta per evitare sospetti, riprende anni dopo Milano, dove intanto Paola è diventata moglie del miliardario Enrico Fontana. Di nuovo intenzionati a rimuovere l'ostacolo alla loro felicità, la coppia studia un piano per eliminare il marito della donna. Piano che, tuttavia, si rivela vano. Nell'epilogo, infatti, Fontana muore in un incidente, mentre Guido sconvolto dalla notizia dell'infedeltà della moglie. Paradossalmente, anche questa seconda morte accidentale ha l'effetto di separare, una volta per tutte, i due amanti. Quindi un film sicuramente da non farsi sfuggire. Soprattutto se ci si vuole cimentare nel cinema di Antonioni, è un punto di partenza fondamentale, in quanto sono contenute tutte le tematiche principali che verranno poi sviluppate magistralmente nei capolavori degli anni a seguire. Da Giulio Cecere, della redazione di Red Dolcevita e Tutto, l'appuntamento è fissato sempre alla prossima settimana, sempre su Città di Amica. Non mi resta altro che augurarvi buona visione. Grazie. Grazie.